BATUA BATU 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 ragazzi siete fantastici, cento d'ordini secondi tutti a tavola e si va a mangiare il brasato forza, vai, ultimo secondo della ancora cazzi, forza forza oi oi chi siete voi Luciano ma da dove vieni dalla luna Paola vieni ci ha da iscrivere due si in posto non c'è problema anche la gente eh ma chi l'ha visto Paola dove sei è arrivato Luciano da Brescia vai vai a iscrivervi grazie